ci eravamo spiegati male io avevo capito che questo governo serviva a fare le riforme lo ha detto il ministro del lavoro e delle politiche sociali andrea orlando incontrando la stampa a milano riguardo all'affermazione del leader della lega matteo salvini per il quale il governo draghi non deve riformare giustizia e fisco l'europa ha continuato ci ha dato delle risorse per farle e probabilmente dobbiamo un po chiarirci perché mettere a repentaglio 200 miliardi che sono arrivati perché oggi si dice che non si vogliono più fare le riforme credo che sia scherzare con il fuoco e con il destino degli italiani alla domanda dei cronisti se salvini debba ritirare i propri ministri dall'esecutivo orlando ha risposto questo non sta a me dirlo dovrebbe chiarirsi le idee a me dirlo dovrebbe chiarirsi le idee